bilancia lo scorpione per lo scorpione giornata positiva senz'altro è una luna che evidentemente un po vi frena no però è positiva questa cosa visto che molti di voi si stanno facendo prendere un po la mano sia in amore ma soprattutto sul lavoro ecco per decidere per prendere delle decisioni ci vuole un po più di calma amici dello scorpione questa luna ve la mette proprio addosso questo desiderio anche di concedersi dei momenti di pausa pausa di riflessione per apprezzare anche i rapporti familiari e sentimentali che anche quest'oggi avranno molto da darvi